In una domenica uggiosa al comune di Montesilvano è scoppiato un violento temporale politico che rischia di causare gravi danni alla maggioranza di centrodestra. Con un comunicato infatti nella giornata di ieri il vice sindaco Ernesto De Vincentis e l'assessore Carlo Tereo dell'Anderset hanno annunciato le loro dimissioni in aperto contrasto con l'operato del sindaco Pasquale Cordoma. È venuto a mancare, dicono i due, il rapporto di fiducia nei confronti del sindaco e per questa ragione non condividendo molte delle scelte sinora effettuate degli errori sin cui commessi riteniamo giusto abbandonare autonomamente la giunta comunale. Insomma un macigno lanciato con forza nell'acqua della maggioranza anche perché siamo di fronte a due assessori che sono risultati alle elezioni comunali del 2007 i più votati della città con oltre 900 voti di preferenza. Tereo e De Vincentis hanno comunque sottolineato che restano nel PDL e che il malumore nei confronti del sindaco non è solo il loro ma anche di molti altri consiglieri del centrodestra. Cordoma dal suo canto ha subito risposto dicendosi rammaricato e sorpreso sullo sfondo il futuro del centrodestra a Montesilvano e non solo. In realtà la frattura si è venuta a creare già da qualche tempo con De Vincentis e Tereo critici nei confronti del primo cittadino e pronti a preparare la prossima legislatura in cui secondo loro Cordoma non deve essere ricandidato. Venuto a sapere della cosa il sindaco l'ha presa molto male e sembra che avesse in animo di estromettere subito i due. Una decisione che è stata però rinviata perché alle porte c'è il delicato appuntamento dell'approvazione del bilancio. Così Tereo e De Vincenti si hanno anticipato il sindaco e prima di essere fatti fuori si sono dimessi. Il braccio di ferro tra Cordoma e i due dimissionari in realtà è la conseguenza dello scontro in atto da tempo tra Lorenzo Sospiri, musa di Cordoma, e Alfredo Castiglione, punto di riferimento dei due assessori. Ecco perché il caso Montesilvano rischia di avere conseguenze anche a Pescara e non solo. Ora si attendono le mosse di Cordoma che potrebbe sostituire subito i due ma la cosa avrebbe il sapore della lotta senza quartiere. Il tutto con un bilancio da approvare entro un paio di settimane in consiglio comunale. Se il centrodestra non trova una soluzione ed il bilancio non dovesse essere approvato, Cordoma arriverebbe al capolinea e le elezioni sarebbero nuovamente protagoniste a Montesilvano.